buono, buono, buono ok ok ho troppa energia oggi fiamme buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo, superissimo video io in questo momento sto aspettando la presenza di uno per me che è uno dei talenti più grandi nel mondo, seriamente lo penso così, io sono assolutamente onorata per poter fare un video con questa persona il suo nome inizia con la N, finisce con AEL e il cognome è lo stesso nome del mio cagnolino vediamo se riuscite a capirlo nei commenti chi viene in palestra sta prendendo Uber ho pensato ho pensato che sfida voglio fare a lui che sfida voglio fare a Nihil visto che lui ha provato praticamente tutto e provarebbe praticamente qualsiasi cosa io ho pensato di sfidarlo nella mia entrata della trave se non avete già presente qual è la mia entrata in trave salto dalla pedana arrivo in spaccata sulla trave secondo me è un'idea bellissima vediamo cosa ne pensa lui però ovviamente prima che cominciamo questo video non dimenticatevi di lasciare un super like e di iscrivervi a Sofielin siamo quasi a mezzo milione di fiamme non dimenticatevi non dimenticatevi è così spazio attra sca passions la vieno mi buongiorno bambanti algún attra gha perchè senza che le costeremo questo tanti credo che mi 머리 è felice se uno mi ha fatto, è vero se si fa meglio, non va bene ma non va bene, sia le stagioni ho provate grazie vero apprende spetta Sì, non è vero che la splittura è in questo, non è vero? Do you know what I'm saying? Sì. 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 Sì, I think so. I'll stay in here just in case you fall this way and try to catch you. OK. Thank you. But I've never spot that before so I can't promise you that I'm going to catch you. Can you give me some coaching points, please? Sure, sure. It's just like you just showed me how I do it and going, come on then, have a go. Go and hurt yourself. Do you know how to do split jumps? Perfect. That's all I have to think about, is a split jump, and then just don't close. You just do a split jump and then you just move your body out. I don't know how to teach this. World class coach. You've got to think, big split jump, slightly shift your body in the air and just don't close the split jump, just stay in the splits. And look for your, try to get your heel and your big back toe on the beat, back there. So yeah, big, your right toe and your heel, that's what you're searching for. All right, we've got an audience as well here, this is going to be hilarious. Oh, I don't like this. All right, all right. That was really good. Okay, but you want the splits though, that was a, that was a good prep. That took some like hamstring strength, I feel like to stay up there like that. You got this, heel big toe. Nice, nice, nice. Look how I'm blinding. That was amazing. I know. Are you kidding me? No, 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 not yet, not yet, not yet, not yet, not yet, not yet. Do you trust me now as a spotter? I trust, yeah, all high. Okay. Okay, good. Thank you. I was worried a little for a second. Yeah, me too. Nice, nice, nice. All right. You okay? Yeah. Bless me, she's like. It does. Come on, let's land it in there. All right, you got this. It is. Oh my. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oh, the hamstring, but the yes, that'll do. That was insane. Thank you. Do you think the fans will be let down if I don't take off the mat? I mean, probably. I mean, I would be. If I was a fan watching this, I'd probably be let down if you didn't do without the mat. This is going to be a one take this because I don't want to do more than one. Perfect. So I'm going to nail it. Promise. You can do it. I can do it. I know you can do it. You've already done it. I've done it already. Just think big split jump, heel, toe. Just do it again. You can do it. Big split jump. That's all you've got to think about. If I were you, I don't know if I would have done that. You know he would. It's Niall. It's Niall. Listen, come on. He's down for anything. If this guy can do backflips and high heels, don't try that. No, don't. Don't try that. If you can do that, you can do this. Ciao ragazzi, sono tornata a casa. So che non ho parlato molto italiano in questo video. Anzi pochissimo. Perdonatemi. Ma ero un po' presa nel momento. Un po' spaventata. Un po' tipo oh mio Dio. Sta succedendo veramente che lui prova questa entrata. E poi dovevo fare assistenza come coach. Come avete visto. Scusate se non ho parlato vicino vicino alla telecamera come nei soliti video. Ma è stato un video un po' diverso del solito. Un'esperienza sicuramente molto diversa del solito. Lui è una persona veramente, veramente brava. Molto simpatico. Gli ho detto che nei suoi video, si vede nei suoi video che sembra una persona molto terra terra. E di persona ancora di più. Veramente gentile. Molto sereno. Molto chill. Veramente molto simpatico come persona. Quindi è stato veramente una giornata stupenda. E mi sento onorata per poter aver fatto questa collaborazione con lui. Adesso che sto aprendo i miei canali anche agli Stati Uniti. E paesi che parlano inglese. Sto conoscendo come avete visto in queste ultime settimane. diverse persone di questo ambiente. Ed è super divertente per me. Perché sto facendo molte nuove amicizie. Facendo queste nuove avventure. Spero che vi siete divertiti. Non dimenticatevi di lasciare un super like. E ragazzi andate a vedere gli altri challenge pazzeschi che abbiamo fatto sulle nostre pagine Instagram. Io ho l'unghia del dito che manca in questo momento. Perché è di una challenge che abbiamo fatto oggi. Ma se questo è il peggio che mi succede. Va benissimo così. Perché mi sono divertita troppo facendo queste challenge. Ciao all'unghia. Ma ci siamo veramente divertiti facendo queste challenge. Quindi vale la pena perdere l'unghia oggi. XOXO Al prossimo video. Che il fuoco sia dentro di voi. E non dimenticatevi di iscrivervi. Se non lo avete già fatto ragazzi. Siamo quasi a mezzo milione di fiamme. Oh my god. Ciao ragazzi.